Massimo Morettuzzo, segretario regionale del Patto per l'Autonomia per la Regione Friuli-Venezia-Giulia. Autonomia Ambiente per noi è davvero un percorso molto interessante, siamo contenti di partecipare alla sua fondazione. Noi crediamo che oggi ragionare sui temi delle autonomie e dell'autogoverno sia l'unica strada che i nostri territori e le nostre comunità hanno per provare a immaginare un futuro diverso. Mettendo al centro alcune questioni fondamentali, la questione dell'Europa, noi in Friuli-Venezia-Giulia siamo una terra di frontiera dove gran parte dell'Europa è transitata e si è fermata e ha contribuito per arricchire tutta la nostra straordinaria diversità di lingue, di culture, di etnie diverse. Crediamo che ragionare oggi di Europa significa ragionare di un'Europa diversa da come la conosciamo, di un'Europa di popoli, Europa di diversità, un'Europa che sia capace di andare oltre la sommatoria degli Stati e che diventi una vera e propria Repubblica dove la democrazia, la partecipazione siano dei capisaldi inamovibili. Crediamo sia fondamentale ragionare sui temi del lavoro, inteso come nuova possibilità per cambiare delle regole di un'economia che sta soffocando tante persone e ha fatto crescere le disuguaglianze a favore di chi si è arricchito a dismisura negli ultimi anni. Crediamo sia importante ragionare su un altro modello di sviluppo che pone al centro la sostenibilità e quindi il tema dell'ambiente deve essere reinterpretato e deve vederci capaci di essere non padroni a casa nostra ma padri a casa nostra, cioè capaci di assumerci la responsabilità di prendere in mano il futuro delle nostre terre. Questo crediamo sia indispensabile, crediamo sia indispensabile farlo in una logica di solidarietà fra territori che sono capaci di parlarsi, capaci di parlare una stessa lingua e capaci di guardare assieme a un futuro che sogniamo in modo condiviso.